Santa Maria del Fiore, situata nella splendida città di Firenze, è un famoso capolavoro architettonico che attira turisti da tutto il mondo. Santa Maria del Fiore, conosciuta anche come la Cattedrale di Firenze, è un simbolo iconico della ricca storia e del patrimonio culturale della città. Lo scenario che circonda Santa Maria del Fiore è semplicemente mozzafiato. La cattedrale svetta all'orizzonte con la sua magnifica cupola progettata da Filippo Brunelleschi. I suoi dettagli intricati e la sua splendida architettura la rendono una meta imperdibile per gli appassionati di architettura e di storia. Per chi ha in programma un viaggio a Firenze, una visita a Santa Maria del Fiore dovrebbe essere una priorità. La cattedrale offre un'opportunità unica di immergersi nella bellezza e nella grandezza dell'arte e dell'architettura rinascimentale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.